La retenzione della terra nel ferrarese. Il ministro dell'agricoltura e il maresciallo Balbo hanno inaugurato il primo lotto di appoderamento iniziato lo scorso anno che interessa oltre 200.000 ettari di vecchia coltura o di recente bonifica. E' dato inizio alla costruzione della casa del fascio intorno alla quale sorgerà, secondo centro rurale della grande bonifica, il nuovo villaggio che per volere del duce assumerà il nome di Anita in omaggio alla compagna dell'eroe dei due mondi morta nei pressi di questa località.